Musica Bella a tutti quanti gente, riacconci qui in questo nuovo episodio dedicato oggi a Slender Ok, iniziamo subito Le regole non ci servono, quindi chissene Ok, ok Abbiamo subito la tenda qui, va bene Ah Campeggiatori in riva al lago, che romanticoni Ok, di qui cosa abbiamo? Questi Che ho notato che ogni volta cambiano Oh, che culo, al primo colpo Come Vanish o Dash, che toglie le macchie al primo colpo E noi al primo colpo Tu, dove sei? Tu, dove sei? Non farti vedere naturalmente una cosa detta etorica Non so dove andare Noi seguiamo sempre le stradine, va? Sembra essere dei luoghi sicuri Amichevoli Sicuri, soprattutto Tra la 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 la, tra la 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 Lì c'è il bagno So che se ci vado Io ci schiatto Tra la la Ah, è lì la stradina Che fare? Ci vado nel bagno oppure no? Io non vorrei ma devo Tanto so che ci schiatto qui Lo so Salve, buongiorno Anzi, buonasera, scusi Ok Questi sono dei bagni Di qua l'ultima volta ho trovato la pagina E stavolta no Uh, però c'è l'uscita di qui Sì Pagina no Pagina No Io cammino all'indietro Facendo un bellissimo moonwalker Per non vedere cosa ho dietro Pagina No Vabbè controlliamolo bene No Ok Abbiamo quasi finito di esplorare questo Caspiterina di magazzino Pagina No Uh, c'è un microonde Qualcuno ha qualcosa da cuocere? No Ok Io ve l'ho detto Vi avvisati Quindi qui non c'era una pagina? Ok Va bene Strano a pensarci Ma va bene Dove Io andare di qua Logo sicuro Ok Ora A questo punto Andiamo nel campo di grano Cristo Ok Ok Calma Ora potremmo forse salire di qui Ma chi lo sa Sperando che non ci metta i bastoni fra le ruote Che poi non andiamo nemmeno in bici Quindi Allora qui c'è la macchina Allora qui c'è la macchina La macchina ha una pagina E Dove Dove Cri No 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 Non si fa così Non vale, è cattivo Cattivo, non si fa Proviamo di nuovo la stradina di prima A sti punti Dov'è? Davanti non lo è Non è da fa' È dietro È dietro Non è neppure dietro E allora andiamo di qui Sei stanco? Ti lascio riposare, ho capito Questo qua Come lo oltrepassiamo Lateralmente? Sì, proviamo lateralmente Ok, ora Dove andà? Foot looker Yeah Di qui c'è una stradina? Ah sì, di qua c'è una stradina Non temere in mezzo mezzo, oh, la varca, dalla varca c'è sempre, e dai non mettere di, oh, ecco di qua, bene, 3 di 8 pagine, proseguiamo, di qua ci può andare, uh, bene, un'altra pagina, no, quindi giù per la montagna, si, ok, ora, passando di qui, dovremmo arrivare al campo, al campo c'è la turretta, che mi ispira tanto l'idea di una pagina, quindi adesso facciamo così noi, tanto nel bagno non c'è, lo so, ho visto che non c'è, è inutile tentare, di qui forza, dai, 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 eccola lì, oh, meno male, quanto siamo a 6, vero? 5? Davvero? ero convinto davvero di più, mannaggia, ora, c'è la baccheca info, che non ha una mazza, ok, fai che hai divincito una stradina? Meno male, facciamoci una tranquilla e rilassante, naturalmente, passeggiata nel bosco di notte, naturale, perché di giorno non è emozionante, diciamo così, è più bella di notte, un po', il bagno l'ho già controllato, io non ci vado, quindi, tanto lo so che non c'è nel bagno, non mi ci ho obbligato a tornare, e allora, dobbiamo stare di sopra, dalla parte, ok, ho capito, lì c'è una pagina, lo so, me lo stai dicendo con i tuoi spostamenti continui in quella zona, come a non volermi far andare lì, ma io sono troppo furbo, e quindi faccio un giro strano, forza, epp, e, dai, ok, Cinelli, 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 luce, un bel fuoco, dai, ora corri e vai, forza, macchina, mi ricordo che non c'era niente, Ah, sì che c'è, grazie, ora, mancano ancora due, tu, lì c'è il bagno, lì c'è il bagno, voglio arrivare al bagno, devo andare in bagno, dai, ma credo che al bagno non ci sia niente, vero? Ah, sì che c'è, Oramai ne manca più, perché sto passando nel, nel, nel bosco? Non so dove sei, ma, Mmm, diamine, ok, pessima idea usare il raggio corto, un raggio lungo, Oh, mio Dio, so che nel bagno non c'è, ma, ma, ma non fai apposta, adesso è qui di nuovo, no, ma ci comparirà, se ci compare, si sta avvicinando, dai, muoviti, muoviti, non so dove sei, non sei qui, lo so che non sei qui, è tutta scena, è tutta scena, è tutta xina, mmm, xina, che, io volo centra xina, ok, bacheca, ma, lo vuoi capire che non mi serve, non hai niente, sei inutile, inutile, ma dove sei? sto giro andando qua, giuro che sei nei banni, ma quanto mi incazzo, no, di qua no, oh, non so se andare nei banni, io non l'ho vista, e poi manca ancora la jeep da trovare, non so che ci sia la jeep, qui torniamo un'altra volta dai mobili, anzi, no, dove, oh mamma, sei stata sbagliata, grazie per il suggerimento, quindi deve essere di là, ma per forza di là, so per certo che non è buona idea girarsi, infatti, quindi, oh mamma mia, una pagina, una cazzo di pagina, dai, e fammelo finire almeno questo pezzo, poi mi torturi psicologicamente quanto altro vuoi, ma fammi finire almeno sta parte, allora, ripetiamo tutto il percorso, nel bagno io non ci vado, non ci vado io nei bagni, scordate però, sì però non vale così eh, una porca di quella, no, ah, ancora qui, tanto non ci sei, io lo so che non ci sei, stradina in basso, ma non ti vedo, non ci sei, se non ti vedo non ci sei, queste sono le mie credenziali, dai, fammela trovare l'ultima, quanto ce vuole, e la barca, mio Dio, mi sa che devo tornare in bagno, mi sa che mi tocca il bagno, perché non ci sono altre soluzioni, se no, poi devo aver fatto tutti i giri possibili, e ma vabbè dai, ma nemmamagliare, non vale così eh, lo sappiamo, che non vale, dove sei, tu non ci sei di qua, non ci sei, non ci sei, oh, non metterti in mezzo, quindi al bagno dobbiamo tornare, no, voglio una stradina che ti type, voglio il bagno, ah forse, eccoli qua, so che stiamo per morire, ma io ci provo ugualmente, ah non è un bagno, è un information center, potrei dire che ugualmente, non so cosa sia, un centro di informazioni, lì non c'è, l'ho confermato, su sti armadietti, no, dove, vuol dire che, qua, no, 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 piccolo cieco, porca, no, 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 per pochissimo, di nuovo, riuscirò mai a trovare tutte le pagine, mi sorge un dubbio che sia, che erato sto gioco, che non ti faccia trovare l'ultima pagina, lo so che mi stai pigliando per il culo, vabbè gente, questo dunque è tutto per oggi, ma non perdetevi il prossimo episodio, che uscirà breve, a presto, a presto, a presto, Grazie a tutti.